Grandi emozioni nel ricordo di Eva Rebol e al palazzetto dello sport di Ponte Cagnano dove si è svolto il Master Open Salerno, a cui hanno preso parte la Handball 00, la Star Stream Salerno, la Torre del Greco, Benevento e la rappresentativa Roma. L'evento è stato organizzato dalla Star Team Salerno Handball in collaborazione con l'Handball 00 col patrocinio del Centro Sportivo Educativo Nazionale. All'interno del Master Open Salerno è stato dato spazio al ricordo di Eva Rebol, grande giocatrice e campionessa di palla a mano, prematuramente scomparsa. L'evento che è stato creato è far sì che l'attività della palla a mano, almeno per noi, siamo un po' in età, facciamo un po' il Master e cominciamo a rifare, l'altra volta di portare questa attività e fare un po' di promozione. Quando riguarda il Master, questo è stato dedicato a una compagna, una ex giocatrice che ci ha lasciato qualche mese fa e questo mi può dare migliori delucidazioni su chi era Eva Rebol. La mia compagna e collega di compagna di viaggio da quel momento, Handball 00, e quindi lo faccio a lei la parola, ti ricordo di Eva. Ti ricordo di Eva, Eva Rebol la conosciamo tutti, è una campionessa che è della Slovenia, che ha militato in un campionato principale di palla a mano dell'italiano nazionale, è una campionessa grande donna, come diceva Lucio è mancata un anno fa e abbiamo deciso di dedicarlo a lei perché giocava a palla a mano e la maggior parte di noi che giocava stamattina nella giornata di oggi erano come tutte amiche, amici soli e conoscenti, quindi non c'era un momento migliore per dedicarlo a Eva, sinceramente. Ritorneremo a fare un altro momento sempre con il Master, con l'età più avanzata, con i Master. Il prossimo impegno per l'Handball 00 e la Star Team Salerno Handball sarà il Master estivo del sabato 20 luglio nel suggestivo scenario della spiaggia di Santa Teresa, nell'ambito della Santa Teresa Beach Soccer. Allora, ripetiamo l'evento Master anche sulla spiaggia, segnatevi questa data, il 20 luglio 2024, sabato 20 luglio, saremo alla spiaggia di Santa Teresa con il Master Santa Teresa Beach Endemore, vi aspettiamo!